Nella giornata conclusiva della 69esima edizione del Termina Film Festival siamo in compagnia di Beatrice Venezzi, direttore artistico di questa edizione. Beatrice ci racconti, ci fai un po' una summa di questa settimana e ci racconti che cosa ha significato per te essere appunto a capo di questo festival così prestigioso. Un onore, una grande responsabilità, 69 edizioni sulle spalle, comunque un festival da ricostruire rispetto alle edizioni passate, un'edizione in cui io sono personalmente molto soddisfatta perché comunque ha riportato veramente il Termina al centro della scena e adesso si apre il resto del nostro festival che è il Termina Arte Festival, per cui in realtà noi siamo soltanto all'inizio. Infatti ci saranno, ci sono tantissimi eventi in cartellone che ti riguardano ancora più da vicino perché tu sei un direttore d'orchestra e appunto quindi si apre una stagione più teatrale, ci puoi dire qualcosa dei prossimi eventi? Certo, abbiamo tre opere in cartellone, il primo è il trittico di Giacomo Cuccini, tre opere in una appunto Tabarro, Suorangelica e Gianni Schicchi, poi Turandotto che sarà una nostra produzione autottona proprio di Termina e poi il ditico Cavalleri e Pagliacci. E poi ancora spettacoli di danza, prima Leonora Bagnato, Jacopo Tissi, ancora spettacoli di prosa con Giorgio Pasotti, con Gene Alexander, con lo spettacolo di Petrillo in prima nazionale dedicato a San Francesco d'Assisi, con Lazzareschi. Quindi una stagione veramente ricca e per tutti i pubblici possibile. Quindi possiamo dire davvero che dopo alcuni anni difficili che hanno caratterizzato tutto il mondo dello spettacolo e del teatro, non solo ovviamente questo festival, ci sia stata una ripartenza che si proietta verso il futuro con grande positività? Questo è quello che abbiamo cercato di fare con questa edizione che per noi è l'anno zero veramente e abbiamo già la proiezione sul futuro, su quello che saranno le prossime edizioni, quello che sarà il futuro di questa fondazione, per cui in realtà è tutto un lavoro in divenire. Insomma, io sono molto soddisfatta di questo primo anno, di tutti i nomi che hanno accettato di essere sul palcoscenico, su questo palcoscenico straordinario che è Tormina e insomma ci sono veramente tutte le basi poi per uno sviluppo futuro e uno sguardo, soprattutto un'architettura più ampia, più ampio respiro. Grazie mille e in bocca al lupo allora per questo progetto. Grazie mille e in bocca al lupo allora per questo progetto.